Edward George Scrain è un attore e rapper britannico Nato a Camden il 29 marzo 1983, dopo la laurea in arte alla Central Saint Martins, Scrain inizia la propria carriera nello spettacolo come musicista rap Nel 2007 esce il suo primo album, The It Up Successivamente, Scrain inizia a dedicarsi alla recitazione e nel 2012 fa il suo esordio nel film Il Maners, in un ruolo scritto appositamente per lui dall'amico Ben Drew L'anno successivo entra nel cast della terza stagione della serie televisiva HBO Il Trono di Spade nel ruolo di Dario Nariz, venendo però sostituito da Michael Usman a partire dalla stagione successiva Nel 2015 interpreta il protagonista di The Transporter Legacy, reboot della serie di film d'azione di transporter ideata da Luke Berson Tra gli altri ruoli notevoli, si ricordano quello nel film I vichinghi dove recita insieme a Ryan Quanton nel 2014, mentre nel 2016 interpreta la parte dell'antagonista Ajax nel film Deadpool Ad agosto 2017 Scrain entra nel cast di Elbowy nel ruolo del personaggio asiatico Ben Daimio, ma l'attore decide di rinunciare al ruolo pochi giorni dopo a causa delle accuse di I viching mosse contro la pellicola Reciterà nel 2018 nel film Netflix e, sempre nello stesso anni, otterrà una parte in se la strada potesse parlare Nel 2019 recita in Alita, Angelo della battaglia, un film di Robert Rodriguez Nelle versioni in italiano dei suoi film, Ed Scrain è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane